Il corso mi ha piaciuto molto, è stato molto istruttivo, ho capito che c'è sempre tanto da imparare, ho capito nell'ultima parte ancora, nonostante in diploma c'è sempre da migliorare. Per me è stato molto, molto interessante, ho conosciuto gente da tutta Italia, quindi veramente un'esperienza totale, diciamo. Mi è quasi sembrato di rifare il servizio militare, molto più compresso, molto interessante, però l'esperienza di condividere comunque un appartamento con altre persone che non conoscevo. Ho trovato due persone qui in Sardegna accoglienti come Massimo, tu Roberta, è stata veramente un'esperienza molto, molto bella, molto profonda, proprio sentita completamente. Sono un corso molto professionale, sono stato proprio colpito positivamente da questa cosa, lungo, estenuante, alla fine proprio non ne avevo più, però molto soddisfacente. Purtroppo ho avuto la barriera della lingua, insomma, quindi capivo abbastanza, però su un 60-70%, non riuscivo, le sfumature mi mancavano, poi ho avuto ragazzi meravigliosi che mi aiutavano a tradurre, quindi pusevano a capire tutto quanto. Ecco, l'unica cosa è quella che però c'è in una federazione internazionale, insomma, la lingua internazionale è l'inglese. Pena formeremo dei super expert in Italia.